Via del Presto, un nome che evoca un senso di urgenza, di velocità. Ma non bisogna lasciarsi ingannare dal suo nome misterioso. Questa strada ospitava il Monte di Pietà, dove si svolgeva l'attività del prestito, popolarmente detta Presto. Un luogo di storie, di destini intrecciati, dove il tempo sembra fermarsi nonostante il suo nome suggerisca il contrario.